Abbiamo recuperato Pato, un altro recupero importante, domani sicuramente dovrà essere una bellissima partita contro la squadra più forte in questo momento al mondo e quindi dovremo avere grande rispetto, però bisognerà giocare una partita da Milano. La differenza è che quest'anno siamo già qualificati, quindi domani sera ci giochiamo la qualificazione eventualmente per il primo posto e quindi bisognerà fare una partita molto buona sotto l'aspetto tecnico, di grande intensità e soprattutto sotto l'aspetto difensivo bisognerà essere molto bravi, forse anche più bravi di quello che i ragazzi sono stati a Barcellona.